Nuovo look per i parchi cittadini di Velasca. Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco di Via de Amicis e del parco della Villa Volontieri. Il progetto, realizzato dall'amministrazione con una spesa di 75 mila euro, ha tenuto conto del contributo di idee e suggerimenti dei cittadini di Velasca. Gli operai a lavoro al parco si stanno occupando della sistemazione del verde, interventi sulle siepi che sono state abbassate, l'eliminazione dei rami, delle piante disseccate e dei cespugli, il tutto a favore di una maggiore inclusione e per disincentivare gli atti vandalici. Inoltre sarà eliminata la siepe lungo il confine est del parco e abbattuto il muro che lo divide dall'area verde di Via Pratolini, in modo da creare un unico spazio. All'interno del parco sarà disegnato un sentiero in calcestre per le passeggiate. Saranno aggiunte nuove panchine, un tavolo e sistemate le due fontanelle. Verrà installata sotto l'altalena la pavimentazione antitrauma, mentre gli altri giochi, vecchi e ammalorati, sono stati eliminati. Lo spazio destinato ai giochi per bambini diventerà il parco di Villa Volontieri. Nel prossimo video scopriremo quali saranno i nuovi giochi e come sarà trasformato il parco della villa. Seguiteci!